E' un'altra cosa. Adesso è cambiato tutto. Era davvero cambiato tutto. Era vero. O ero io che non ero pronta per ricongiungermi con il mio passato. E mi crederebbe che avrei sono due sera lì. Sei tu. Mo' lì non ha detto tutto a sua. Io sei mio nipote Maurizio. Non ha già parlato. Faccio tu passare all'ufficio prima che prima fa. E lo comanda a bacchetta tutto quanto. Tu a chi comanda? A quella merda di uno sarratore. Elena, anche se la nostra situazione è complicata, devi venire a capo. Una donna separata con due figli e le tue ambizioni deve fare i conti con la realtà e stabilire che cosa può rinunciare e che cosa no. Non so davvero come fare. Nino. Nino, io sono incinta. In questa vidale, i buoni sentimenti sono fragili, Elena. E i bucini sono meglio di tranquillanti. Volere bene, scorrere insieme al volere male. Ma alla fine... E' stata una fortuna che stavo con me insieme. E' l'auto come insieme. Grazie a tutti.